Io ho il Templo della Trinidad, oggi è stato il municipio dove dovrei lavorare al canale della città, quando tiene Gana, però ultimamente stava in Templo della Trinidad, ok? A ver, antes del vero monumento blanco a chiama madre c'è informazione tecnica, se anche un bel hotel, chiede un bel hotel, qualcosa, se chiede libero nella tarda e tutto questo, qui a la mano a la izquierda 46, miren il bus 46, va al hotel, ok? 46, di Plaza Venezia, Plaza Venezia, ok? Ok, mano a la derecha, monumento blanco, enorme, gigante, è il monumento di Vittor Emanuele II. Signore, la statua a cavallo, che sta nel centro del monumento, è la statua del primo rei italiano, Vittor Emanuele II. Mano a derecha, mano a derecha, mano a derecha, mano a derecha. È il monumento, tutto fatto in marmo, in questo caso non è fatto in travertino, questo non è pietra, è marmo. Tutto fatto in marmo, ok? Signore, fu costruito nel 1870, bueno, fu comienzato nel 1870, quando Roma fu hecha capitana italiana, e lo terminaron 50 anni dopo con Benito Mussolini nel 1920, ok? Nel centro, miren ora la mano ischierta. Miren la mano ischierta, miren la mano ischierta, mani ischierta, mani ischierta, mani ischierta, mani ischierta. Benito Mussomini, nel 1920, puso allà la tomba del soldato desconocido. Signore, miren in cima de los escalones d'entrada che hai. Ok, si. Se turnan, claro, claro, se turnan cada 2 horas durante il dia e cada 1 hora durante la noche. Ok, e cada semana cambia eschierta, aeronáutica, marina. Ok, se van turnando la tomba del soldato desconocido. Señores, este monumento che sta hecho en marmo non va a durar seguramente tutto quello che durò il Coriceo. Perché marmo è duro. È una piedra, il marmo è molto duro. Perché ora dice il soldato desconocido? Il soldato desconocido. O l'altar della patria. Bueno, mi abono lo chiamava pastènde boda, tartaruncia, un elefante blanco è nato allà, che è la famosa Scalera Santa, la Scalera di entrata del palazzo di Ponceo Pilato, la Scalera Santa, la Scalera che Cristo bajò e subì che si trattò varie volte nel suo ultimo dia di vita. Mano dreccia, mano dreccia, mano dreccia. Mano dreccia, mano dreccia, mano dreccia. Mano dreccia, mano dreccia. La scalera del mondo fu a casa dei papi fino alla peste bubonica. Habranno sicuramente parlato della peste negra, se ricordano la famosa maschera della peste di Dante Rigieri, no? Signore, i papi con la peste, Venecia, Florencia, Roma. En quanto la peste arriva a Roma, i papi, adios, se van, escapan. Ok, se van a dove? En Francia, abandonando San Juan. Ok, dejando la cattedrale di Roma. Il comissio è 80. Significa che Neroni è il comissio. Mira la mano dreccia di Santa Maria. Significa che Neroni è il comissio non si hanno visto. Nino pensava di costruirlo. Ok? Perché fu una famiglia che vino despues di Neron a costruire il comissio. Otra grande mentira. La pelicula di Encovadis, che io credo che mandano sempre sotto la Semana Santa in tutti i paesi catòlici. Donde si vengono il martirio di San Pedro, no? San Pedro rosificato con la cruz al revés, adentro di un edificio che tutto il mondo crea che sia il comissio. Ma, però, signori, fu Neron che manda a matare a Pedro. Pedro muere antes che Neron. Fecha simbòlica 29 di Junio del 64 d.C. Neron è 67. Il comissio è 80. Cuidado, non sto dicendo che non martirizzaron con i cristiani, in l'epoca di Neron, in cui il comissio non existia. Il edificio di morte, il edificio sangriento, era il circo. e il circo non era il comissio. Ok. Eh, signori, ultima grande mentira che ci hanno contato in l'epoca, l'ultima, Ingradatore. Non mi pregunte, per favore, perché quando hanno fatto l'epoca di Ingradatore non venivano qui a studiare il comissio, però tranquillo che non lo hanno fatto. Come era il viso del comissio? Era plano terreno. Zero di arena, zero terra. Il piso del coliseo era tutto di... Anfiteatro, Fradio. Mire, 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 Alla parte buona, la parte miglore conservata se si qualcuno si stà preguntando come era il comissio? Il comissio era sì, come ven ven u std esa mano dereccia. Tres pisos delle arco con ultimo piso che tenga ventana rectangulare Asi era un Anfi Teatro, Fnavio. Tutto fatto in piedra 5 milioni di bonti Adesso è più sucio Perché quando il duello dell'equipo del futbol di Forenzia finanziò la limpieza del Corseo hanno detto che questi 25 milioni di euro sono sufficienti unicamente per limparlo la parte fuori Ok, attenti, mano derecha sempre mano derecha un po' più davanti c'è una esquina del ladrillo Miren, miren ora si ve una esquina del ladrillo signores Miren qui, miren qui una esquina del ladrillo e a dove cae il Corseo Miren adentro, por favor Marco in seguida dopo la esquina Miren adentro Bueno, in una tarda andiamo allà però miren allà, miren Miren, miren, miren come era il piso, miren Ah, sì Oh, sì Nada di terra Se fosse l'arriana l'arriana ancora stava allà e non c'è nulla Mano derecha la parte fea la parte che io chiamo la parte peor conservata Signores Hay una cosa Miren quantos agujeros Por qué tantos agujeros Nada de guerra Nada de armas Se robaron tutti tutti gli uccionati di hierro che unì la piedra Signore il Corseo fu costruito con macho e hembra No, qui non hanno reconstruito la parte del ladrillo e tutta la parte reconstruita per l'ordine del Papa Giroi XVI Il ladrillo non existia nella parte della epoca del Corseo Quindi tutto completamente fatto in piedra E un macho in brado Un secondo me lo explico Mano derecha Arco di Costantino Non voglio escoltare a nessuno che chiede a questo arco Arco di Triunfo Un arco di Triunfo già lo hanno visto Donde? En Parisi E allora se queda Il pobre Napoleone che si costruì un arco antes di triunfar E a ver signore Che era il circo? Cuidado Se acuerda che si dice Pani Circo e non si dice Pani Coquiseo Il circo è 409 a.C. Il Coquiseo è 80 d.C. Perché si dice Pani Circo? Perché il circo tiene 500 anni più Era più famoso è il primo edificio di fiesta della storia di Roma Antigua e del mondo molto più grande del Coquiseo 660 metri che avevano solamente 250.000 persone Ok? Signore io oggi in la tarda le voy a comparare il Coquiseo Il Coquiseo lo voy a comparare con Hollywood in plazale e HDMI l'ho il l'ho l'ho in l'ho 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 Lo faccio, lo faccio, le persone, no? Al 95%, no, al 99% della plazza di toros muere in toro. Espera, ora bajiamo qui un segundito. Perché muere in toro? Perché in toro, e credo che lo sape in toro, si può toreare una sola volta. Perché in la seconda non va a un paese rollo. Va a un pezzo del torero. Quindi sarebbe 95% di toro e 5% di toro, si è toro non va a un pezzo. Ok? Signore, no, i giovani, la seconda non sapevano molto bene come funzionava. Quindi, o lo matavano nel primo spettacolo, o non servivano più. Moravano sempre gli animali, al 95%. Furtro, persone, circo. Perdonate? Eh, no, sì, può essere, può essere, può essere pregunte. Eh, mano dretta nel Capitonio, ok. Sempre nel Monte Capitonino. Tiene che pregunte, tiene che pensare che la famiglia Orsini oggi è il dueno dei 4 banci più importanti dell'Italia. Quindi, può essere che ti aiuto con un credito. Allora, ok. 916, 46 e 916. Allora, ok. Allora, ok. Allora, ok. Allora, ok. Allora. Allora, ok. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.